Prenderà il via dalla chiesa di Casatico Vitoio la seconda edizione del festival I Sentieri di Petros, ideato e realizzato dalla compagnia Il Circo e la Luna, presidente presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, in collaborazione con Abramo Rossi, che ha curato i documentari, per conto di un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Gli appuntamenti di quest'anno sono tre, domenica 21 agosto a Casatico Vitoio, il 28 a Rocca di Soraggio e l'11 settembre all'eremo di Capraia, sempre alle 21. Il progetto interessa le chiese che hanno al loro interno opere di Pietro da Talada e che grazie ad un documentario potremo vedere anche su Noi TV, all'interno della popolare trasmissione I Colori del Serchio. Le serate, sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, serviranno a proiettare in anteprima il documentario e si arricchiranno di uno spettacolo teatrale che quest'anno racconta, oltre alla storia scritta dall'attrice Michela Innocenti e che ipotizza la vita e l'identità del celebre pittore, anche un omaggio alla tradizione popolare e alla cultura dei territori garfagnini grazie alla collaborazione con il Museo Italiano del Folclorico. Tutto ciò è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con le tre amministrazioni comunali che ospitano il tour Camporgiano, Sillano e Giuncugnano e Pieve Fosciana. Tutto il materiale, inoltre, sarà poi disponibile sul sito dedicato a questa bella iniziativa, ovvero www.isentieridipetros.it